benvenuti ad un'altra puntata di è tutto chiaro la rubrica di mini lezioni di classe italiana sono diana e oggi vediamo che cosa significa arrivare alle stelle e come si usa le temperature la prossima settimana arriveranno alle stelle significa che le temperature la prossima settimana saranno molto molto calde smetto di lavorare il mio mal di testa è arrivato alle stelle significa che non posso continuare a lavorare perché il mio mal di testa è forte fortissimo arrivare alle stelle è un'espressione che si usa per indicare che qualcosa ha raggiunto o raggiungerà una dimensione una misura una intensità molto molto grande è tutto chiaro vi aspetto nei commenti al video per leggere un vostro esempio